ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò in bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco antra astrazeneca spa ultimo aggiornamento 20 luglio 2021 cosa antra confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere antra durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cosa antra antra è un farmaco a base del principio attivo meprazzolo appartenente alla categoria degli antiulcera e nello specifico inibitori della pompa acida è commercializzato in italia dall'azienda astrazeneca spa antra può essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica confezioni antra 10 mg 14 capsule rigide rilascio modificato antra 20 mg 14 capsule rigide rilascio modificato informazioni commerciali sulla prescrizione titolare astrazeneca spa ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe a principio attivo omeprazzolo gruppo terapeutico antiulcera forma farmaceutica capsula rilascio modificato indicazioni antra capsule è indicato in adulti trattamento delle ulcere duodenali prevenzione delle recidive di ulcere duodenali trattamento delle ulcere gastriche prevenzione delle recidive di ulcere gastriche erradicazione di elicobacter pylori h pilori nell'ulcera peptica in associazione a terapia antibiotica appropriata trattamento delle ulcere gastriche e duodenali associate all'assunzione di fans prevenzione delle ulcere gastriche e di denali associate all'assunzione di fans in pazienti a rischio trattamento dell'esofacite da reflusso gestione a lungo termine dei pazienti con esofacite da reflusso cicatrizzata trattamento della malattia sintomatica da reflusso gastro esofageo trattamento della sindrome di zollinger ellison uso pediatrico bambini di età superiore a 1 anno e con peso corporeo e 10 kg trattamento dell'esofacite da reflusso trattamento sintomatico della pirosi e del rigurgito acido nella malattia da reflusso gastro esofageo bambini e adolescenti di età superiori ai 4 anni trattamento dell'ulcera duodenale causata da h pilori in associazione a terapia antibiotica posologia posologia adulti trattamento dell'ulcera duodenale la dose raccomandata nei pazienti con ulcera duodenale attiva e antra 20 mg una volta al giorno nella maggior parte dei pazienti la cicatrizzazione dell'ulcera si ottiene entro due settimane dall'inizio del trattamento nel caso di ulcere non completamente cicatrizzate durante il primo ciclo di trattamento la cicatrizzazione si ottiene generalmente durante il trattamento prolungato per altre due settimane nei pazienti con ulcera duodenale scarsamente responsiva si raccomanda la somministrazione di antra 40 mg una volta al giorno che consente generalmente di ottenere la cicatrizzazione in quattro settimane prevenzione delle recidive di ulcera duodenale per la prevenzione delle recidive di ulcera duodenale in pazienti negativi per acca pilori o quando l'eradicazione di acca pilori non è possibile la dose raccomandata e antra 20 mg una volta al giorno in alcuni pazienti può essere sufficiente una dose di 10 mg in caso di insuccesso terapeutico la dose può essere aumentata a 40 mg trattamento dell'ulcera gastrica la dose raccomandata e antra 20 mg una volta al giorno nella maggior parte dei pazienti la cicatrizzazione si ottiene entro quattro settimane dall'inizio del trattamento nel caso di ulcere non completamente cicatrizzate dopo il primo ciclo di trattamento la cicatrizzazione si ottiene generalmente durante il trattamento prolungato per altre quattro settimane nei pazienti con ulcera gastrica scarsamente responsiva si raccomanda la somministrazione di antra 40 mg una volta al giorno che consente generalmente di ottenere la cicatrizzazione in otto settimane prevenzione delle recidive dell'ulcera gastrica per la prevenzione delle recidive nei pazienti con ulcera gastrica scarsamente responsiva la dose raccomandata e antra 20 mg una volta al giorno se necessario si può aumentare la dose ricorrendo antra 40 mg una volta al giorno eradicazione di acca pilori nell'ulcera peptica per l'eradicazione dell'acca pilori la selezione degli antibiotici deve essere basata sulla tolleranza individuale il farmaco del paziente e la terapia deve essere intrapresa in funzione dei pattern di resistenza locali regionali nazionali e delle linee guida per il trattamento antra 20 mg più claritromicina 500 mg più amoxicillina 1000 mg ognuno a due volte al giorno per una settimana o antra 20 mg più claritromicina 250 mg in alternativa 500 mg più mitronidazolo 400 mg o 500 mg ottenidazolo 500 mg ognuno a due volte al giorno per una settimana antra 40 mg una volta al giorno con amoxicillina 500 mg e mitronidazolo 400 mg o 500 mg ottenidazolo 500 mg entrambi tre volte al giorno per una settimana per ciascuno dei regimi terapeutici se il paziente dovesse risultare ancora positivo per acca pilori la terapia può essere ripetuta trattamento delle ulcere gastriche e duodenali associate all'assunzione di fans per il trattamento delle ulcere gastriche e duodenali associate all'assunzione di fans la dose raccomandata è antra 20 mg una volta al giorno nella maggior parte dei pazienti la cicatrizzazione si ottiene entro quattro settimane dall'inizio del trattamento nei pazienti non completamente guariti dopo il primo ciclo di trattamento la cicatrizzazione si ottiene generalmente prolungando il trattamento per altre quattro settimane prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali associate all'assunzione di fans in pazienti a rischio per la prevenzione delle ulcere gastriche o duodenali associate all'assunzione di fans in pazienti a rischio età 60 anamnesi di ulcere gastriche e duodenali anamnesi di sanguinamento gastrointestinale del tratto superiore la dose raccomandata è antra 20 mg una volta al giorno trattamento delle sofacite da reflusso la dose raccomandata è antra 20 mg una volta al giorno nella maggior parte dei pazienti la cicatrizzazione si raggiunge entro quattro settimane dall'inizio del trattamento nel caso di ulcere non completamente cicatrizzate dopo il primo ciclo di trattamento la cicatrizzazione si ottiene generalmente prolungando il trattamento per altre quattro settimane nei pazienti con esofacite grave si raccomanda la somministrazione di antra 40 mg una volta al giorno per ottenere la cicatrizzazione generalmente in otto settimane gestione a lungo termine dei pazienti con esofacite da reflusso cicatrizzata per la gestione a lungo termine dei pazienti con esofacite da reflusso cicatrizzata la dose raccomandata è antra 10 mg una volta al giorno se necessario si può aumentare la dose ricorrendo antra 20 40 mg una volta al giorno trattamento della malattia da reflusso gastroesofageo sintomatica la dose raccomandata e antra 20 mg al giorno i pazienti possono rispondere adeguatamente alla dose di 10 mg al giorno pertanto deve essere preso in considerazione un adattamento individuale della dose se non viene raggiunto il controllo sintomatico dopo quattro settimane di trattamento con antra 20 mg al giorno si consiglia di procedere ad ulteriori indagini trattamento della sindrome di zollinger ellison nei pazienti con sindrome di zollinger ellison il dosaggio deve essere adattato individualmente e il trattamento proseguito fino a quando clinicamente indicato la dose iniziale raccomandata e antra 60 mg al giorno tutti i pazienti con malattia grave che avevano risposto scarsamente alle altre terapie hanno mantenuto un controllo efficace in più del 90 per cento dei pazienti il controllo è stato mantenuto con dosi di antra 30 mg barra di e 120 mg barra di e dosaggi giornalieri superiori 80 mg devono essere suddivisi in due somministrazioni giornaliere popolazione pediatrica bambini di età superiore a 1 anno e con peso corporeo e 10 kg trattamento dell'esofacite da reflusso trattamento sintomatico della pirosi e del rigurgito acido nella malattia da reflusso gastroesofageo le dosi raccomandate sono le seguenti età peso posologia e uno anno di età 10 20 kg 10 mg una volta al giorno la dose può essere aumentata a 20 mg una volta al giorno se necessario e due anni di età 20 kg 20 mg una volta al giorno la dose può essere aumentata a 40 mg una volta al giorno se necessario esofacite da reflusso il periodo di trattamento è di 48 settimane trattamento sintomatico della pirosi e del rigurgito acido nella malattia da reflusso gastroesofageo il trattamento a una durata di 24 settimane se non viene raggiunto il controllo sintomatico dopo 24 settimane il paziente deve essere sottoposto ad ulteriori accertamenti bambini ed adolescenti di età superiori ai 4 anni trattamento dell'ulcera duodenale causata da h pilori nella scelta della terapia di associazione appropriata devono essere prese in considerazione le linee guida locali regionali e nazionali ufficiali riguardanti la resistenza batterica la durata del trattamento più comunemente 7 giorni ma talvolta fino a 14 giorni e l'uso appropriato degli antibiotici il trattamento deve essere effettuato sotto il controllo di uno specialista la posologia raccomandata è la seguente peso posologia 15 30 kg associazione con due antibiotici antra 10 mg amoc sicilina 25 mg barra kg peso corporeo e claritromicina 7,5 mg barra kg peso corporeo somministrati tutti contemporaneamente due volte al giorno per una settimana 31 40 kg associazione con due antibiotici antra 20 mg amoc sicilina 750 mg e claritromicina 7,5 mg barra kg peso corporeo somministrati tutti due volte al giorno per una settimana 40 kg associazione con due antibiotici antra 20 mg amoc sicilina 1 g e claritromicina 500 mg somministrati tutti due volte al giorno per una settimana popolazioni speciali danno renale nei pazienti con compromissione della funzionalità renale non è necessario un aggiustamento del dosaggio vedere paragrafo 52 compromissione epatica nei pazienti con compromissione della funzionalità epatica una dose giornaliera di 10 20 mg può essere sufficiente vedere paragrafo 52 anziani negli anziani non è necessario modificare il dosaggio vedere paragrafo 52 metodo di somministrazione si raccomanda di prendere le capsule di antra al mattino ingerite intere con mezzo bicchiere d'acqua le capsule non devono essere masticate o frantumate per i pazienti con difficoltà a deglutire per i bambini che possono bere o deglutire cibi simi solidi i pazienti possono aprire la capsula e deglutire il contenuto con mezzo bicchiere di acqua oppure mescolato con liquidi leggermente acidi come ad esempio succhi di frutta oppure a di mele o acqua non gasata i pazienti devono essere informati che in questi casi la dispersione deve essere ingerita immediatamente o entro 30 minuti e che deve essere sempre mescolata appena prima di berla risciacquare il fondo con mezzo bicchiere di acqua e berne il contenuto in alternativa i pazienti possono sciogliere la capsula in bocca e deglutire i granuli contenuti con mezzo bicchiere d'acqua i granuli gastro resistenti non devono essere masticati controindicazioni ipersensibilità al principio attivo ai sostituti benzimidazolici o ad uno a qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 61 omeprazzolo come altri inibitori di pompa protonica ppi non deve essere somministrato in concomitanza nel finavir vedere paragrafo 4 5 avvertenze speciali e precauzioni di impiego in presenza di alcuni sintomi d'allarme esempio significativa perdita di peso non intenzionale vomito ricorrente disfagia e matemesi o melena e quando si sospetta o è confermata la presenza di un ulcera vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione influenza di omeprazzolo sulla farmacocinetica di altri principi attivi principi attivi con assorbimento dipendente dal ph la diminuita acidità intragastrica durante il trattamento con omeprazzolo può aumentare o diminuire l'assorbimento vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere entra insieme ad altri farmaci come a fslamet alcheran compressa rivestita alcheran polvere amasci a tazzanavir accord a tazzanavir dottor redis a tazzanavir crca a tazzanavir milan a tazzanavir sandoz avere l'x cefodox compressa rivestita cefodox granulato cefodox sima milan compressa rivestita cefodox sima milan polvere cefodox sima sandoz compressa rivestita cefodox sima sandoz polvere cipralex compressa rivestita compressa rivestite cipralex gocce citalopramabici compressa rivestita citalopramabici gocce citalopramalmus citalopramalmus farma citalopramaurobindo compressa divisibile citalopramaurobindo gocce citalopramdoc c.t. lopra m.doc generici c.t. lopra. me g.t. lopra. e s.l. a.g. c.t. lopram exala c.t. lopra. m.u.t. lopra.的に c.t. lopra milan generics compressore rivestita c.t. lopra milan generics gocce c.t. lopra. m pensa c.t. lopra. pesa farm c.t. lopra. m.rcy Lineage. Citalopram Radio Farm Italia, Citalopram San Doz BV, Citalopram San, Citalopram San Farm, Citalopram Technigen, Compressa Rivestita, Citalopram Technigen, Gocce, Citalopram Zentiva, Citalopram Zentiva Italia, Citesint, Compressa Rivestita, Citesint, Gocce, Calopidogrel Almus Farm, Calopidogrel Acido Acetil Salicilico Milan, Calopidogrel Laboratori Eurogenerici, Calopidogrel Technigen, Calopidogrel Teva, Calopidogrel Zentiva, Daseatinib EG, Daseatinib Crca, Daseatinib Milan, Daseatinib San Doz, Daseatinib Zentiva, Dinole, Duopladin, Idurant, Citalopram, Compressa Rivestita, Citalopram, Gocce, Citalopram, Soluzione, Uso Interno, Entact, Compressa Rivestita, Entact, Gocce, Erlotinib Milan, Erlotinib San Doz, Citalopram Accord, Escitalopram Alter, Escitalopram Aurobindo, Escitalopram Doc, Escitalopram Doc Generici, Compressa Orodispersibile, Escitalopram Doc Generici, Compressa Rivestita, Escitalopram EG, Escitalopram Eurogenerici, Escitalopram Crca, Escitalopram Laboratori Alter, Escitalopram Laboratori Eurogenerici, Escitalopram Milan, Compressa Rivestite, Escitalopram Milan, Gocce, Escitalopram Pensa, Eschitalo pram Pensa Farm, Eschitalo pram Sandoz, Eschitalo pram San, Eschitalo pram Technigen, Compressa rivestita, Eschitalo pram Teva, Eschitalo pram Teva Generics, Eschitalo pram Zentiva, Eschitalo pram Zentiva Italia, Eviplera, EvoTax, Frimaind, Gefitinib Accord, Gefitinib EG, Gefitinib Medac, Gefitinib Milan, Gefitinib Teva, Gefitinib Zentiva, Giacchela, Compressa rivestita, Giacchela, Gocce, Gomesa, Indutrex, Iressa, Iuluca, Kaidor, Melfalan San, Melfalan Teva, Melfalan Tillomed, Metotrexate, Metoter, Metotressato Teva, Metotrexato Accord, Fiale Flaconcini Fialoidi, Metotrexato Accord, Soluzione, Uso Interno, Metotrexato Doc Generici, Odef6, Orelux, Compressa rivestita, Orelux, Granulato, Otreon, Compressa rivestita, Otreon, Granulato, Percitale, Lavix, Pram FX, Compressa rivestita, Pram FX, Soluzione, Return, Reumaflex, Reatax, Capsula, Ricap, Compresse rivestita, Ricap, Gocce, Seropram, Compressa rivestita, Seropram, Gocce, Sintopram, Sosecit, Compressa rivestita, Sosecit, Gocce, Sprichel, Compressa rivestita, Tarceva, Trexoter, Velos, Zilt, ecc. Chiedi al tuo al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute, assumere ANTRA durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere ANTRA durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza I risultati di tre studi epidemiologici prospettici, più di mille esiti di pazienti esposti, indicano assenza di effetti indesiderati di omeprazolo sulla gravidanza o sulla salute del feto barra neonato. Omeprazolo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari È improbabile che ANTRA possa influenzare la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Possono verificarsi reazioni avverse al farmaco come capogiri e disturbi visivi, vedere paragrafo 4, 8. Se ne soffrono, i pazienti non devono guidare veicoli o utilizzare macchinari. Effetti indesiderati Riassunto del profilo di sicurezza Gli effetti indesiderati più comuni, 1-10% dei pazienti, sono cefalea, dolore addominale, stipsi, diarrea, flatulenza, nausea barra vomito. Tabella delle reazioni avverse Le seguenti reazioni avverse, identificate, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it Sovradosaggio Sono disponibili informazioni limitate relative al sovradosaggio con omeprazolo nell'uomo. In letteratura vengono riportate dosi sino a 560 mg e sono stati occasionalmente segnalati casi di dosi orali singole sino a 2400 mg di omeprazolo, 120 volte la dose clinica abitualmente raccomandata. Sono stati segnalati nausea, vomito, capogiri, dolori addominali, diarrea e cefalea. In casi singoli sono stati osservati anche apatia, depressione e confusione. I sintomi descritti sono stati transitori e non è stata riportata alcuna grave conseguenza. Con l'aumentare delle dosi la velocità di eliminazione non è cambiata, cinetica di primo ordine. Il trattamento, se necessario, è sintomatico. Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica Farmaci per i disturbi correlati alla secrezione acida, inibitori di pompa protonica, codice ATC. A02-DC01 Meccanismo di azione Omeprazolo, miscela racemica di due enantiomeri attivi, riduce la secrezione, proprietà farmacocinetiche Assorbimento Omeprazolo e omeprazolo magnesio sono sensibili all'ambiente acido, e vengono pertanto somministrati oralmente in forma di granuli gastroresistenti contenuti in capsule o compresse. L'assorbimento di omeprazolo è rapido, con, dati preclinici di sicurezza. Nel corso di sperimentazioni effettuate su ratti trattati per tutta la vita con omeprazolo, sono stati rilevati perplasia delle cellule gastriche ICL e carcinoidi. Tali modifiche sono il risultato di Elenco degli eccipienti Contenuto sodio fosfato di basico di idrato, idrossipropilcellulosa, ipromellosa, lattosio anidro, magnesio stiarato, manditolo, copolimero acido mitacrilico etile acrilato copolimero, 1,1, dispersione 30%, cellulosa microcristallina, macrogol, polietilene glicole 400, sodio laurilsolfato, involucro capsula Farmaci equivalenti I farmaci equivalenti di antra base di omeprazolo sono Anadir, Cletus, Comezol, Cruxagon, Limnos, Losec, Mepral, Nansen, Omeprazen, Omeprazolo ABC, Omeprazolo Almus, Omeprazolo Almus Pharma, Omeprazolo Alter, Omeprazolo Aristo, Omeprazolo Aurovindo Pharma Italia, Omeprazolo Doc, Omeprazolo Eurogenerici, Omeprazolo FG, Omeprazolo GIT, Omeprazolo Exala-S, Omeprazolo Milan Pharma, Omeprazolo Picare, Omeprazolo Pensa, Omeprazolo Farmacare, Omeprazolo Sandoz GmbH, Omeprazolo San, Omeprazolo Tecnigen, Omeprazolo Teva Italia, Omeprazolo Zentiva Italia, Omolin, Protec, Ulcezzol, Fonte, Foglietto Illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato. Grazie per avermi seguito.